E mi sento un po' Andrea nel Paese delle Meraviglia, tornato da questi gadget, alcuni belli, alcuni brutti, alcuni furbi, alcuni intelligenti, molti nerd. Partiamo da questo supporto per iPad, comodissimo. E sì, perché comodissimo? Perché è molto versatile. Adesso ve lo smonto al volo, l'ho attaccato alla mia scrivania per farvi capire come funziona. Qui c'è un fantastico morsetto che permette di essere collegato praticamente a tutti i piani e poi qua abbiamo la possibilità di agganciare un iPad, ma o qualsiasi tipo di tablet o di smartphone, grosso perché l'escursione non è tantissima. Vedete? Si può regolare così, si può regolare così e mettere anche in verticale. Quindi pensate a letto, in cucina, lo potete toccare veramente dove volete. Via, nerdata numero uno andata. Nerdata numero due, ma questa più che nerdata è una cosa comoda, soprattutto per me che viaggio e spesso ho la valigia pesantissima. Un pesa valigie, ma non è l'unico uso che si può fare di questo pesa valigie. Misuriamo la forza! Quanto sono arrivato? Voi l'avete visto, io no. Non penso di aver superato i 12 kg, mi serve un po' di palestra. Nerdata numero due è andata, ma ne ho tantissime. Ah, questa l'ho trovata molto comoda. Un praticamente trova cose, trova tutto. Come funziona? Prende tutto il plug and play, quindi semplicissimo, non c'è da utilizzare Bluetooth, Wi-Fi, niente. Praticamente queste sono tag, le possiamo attaccare alle chiavi, per esempio, le possiamo attaccare allo zaino, le possiamo attaccare al figlio, le possiamo attaccare alla moglie. No, quella non la perdo mai, alla suocera. E poi, con questo telecomando nel raggio di 30 metri, cercarli. Ecco, ho trovato la prima vacata. Fanno tutti lo stesso suono, quindi se sono tutti in casa e se abbiamo cose vicine, vabbè, poteva essere studiato meglio, però la cosa fantastica è che è plug and play. Pile qua dentro, pile qua dentro che durano due o tre anni, pile qua dentro e via con il cerca persone. Vediamo altre cose interessanti che mi sono arrivate da iClever. Questa tastiera Bluetooth la trovo veramente comoda, è compatibile sia con Android, Windows o iOS. Io ho qua ovviamente, no ovviamente, ho qua l'iPhone perché in questi giorni sto utilizzando l'iPhone. Andiamo nella mail, per esempio. Lo metto qua. In tutte queste cose non ho un supporto. Me lo sono dimenticato. Comodo perché possiamo scrivere, vedete, è stata riconosciuta subito, molto molto velocemente. Funzionano i tasti per alzare e abbassare il volume, quindi suoneria. Funziona il tasto per far comparire la tastiera, scomparire la tastiera. Veramente molto comoda. Ovviamente ha una presa micro USB per essere ricaricata, quando la chiudiamo diventa compatta. E c'è anche una piccola custodietta per portarla in giro. Qua ci voleva Riccardo, il feticista del tastiere, per darmi un feedback. Ma devo dire che funziona molto bene, non ho mai avuto problemi. Me la sono portata in montagna per scrivere un po' col mio iPad e veramente zero problemi. Carica batterie. Sui caricabatterie ho qualcosa da dire. Allora, questo, fantastico, 4 uscite da 2.4 Ah, vedete, qua dietro c'è la classica presa per la corrente. Funziona bene, è intelligente, quindi gestisce automaticamente la potenza che deve erogare ai vari device. Ma, 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 ecco, qua ce n'è uno invece che non mi ha convinto. Questo carica batterie a due porte. Non è che non mi ha convinto, funziona bene, anche lui riconosce automaticamente i device che hanno bisogno di tanta potenza, rispetto a quelli che hanno bisogno di poca potenza, ma io l'avevo utilizzato vicino al letto. Sul comodino, quando non è in carica niente, quindi quando l'alimentatore scarico emette un ronzio fastidioso, questo zzzz, zzzzz. E la prima notte l'ho messo lì, ho messo in carica tutto a posto perché quando carica è silenzioso, verso le 3 apro l'occhio e sento zzzz, zzzz. Insomma, usatelo non in camera da letto ma in altri luoghi più rumorosi. La nerdata per eccellenza ovvero il quadricottero lo tengo per la fine Vi faccio vedere questa lampada led Questa è molto molto bella perché non è la solita lampada led Allora prima di tutto è usb quindi la potrete collegare anche al pc Se non avete il pc con tastiera retroilluminata Qui è una pinzona per poterla attaccare a qualsiasi piano Anche qua mi serve un po' di palestra per poterla aprire Ma la cosa bella ve la faccio vedere subito Io l'ho attaccata a un battery pack tra l'altro è questa Prima di tutto devo accendere il battery pack ok Due potenze di illuminazione e soprattutto colore della luce tarabile Lo vogliamo caldo, lo vogliamo freddo, lo vogliamo con tutti i colori accesi Lo possiamo fare semplicemente da questo pulsante Pulsante un po' della nonna ma che funziona perfettamente Andiamo avanti con le nerdate, spostiamo questo Ecco cuffiette bluetooth e qua ho un contributo esterno Un posto un po' particolare per provare questi auricolari bluetooth Tutto perché li ho usati tantissimo qua in montagna Molto comodi perché vedete hanno la possibilità di essere attaccati un magnete Con un magnete io li ho tenuti qua durante le mie sciate al collo Quando si staccano parte la chiamata E oltretutto abbiamo qua sul filo il telecomando per accendere e spegnere, alzare e abbassare il volume Le cuffiettine in ear con anche la possibilità dei adattatori auricolari Si incastrano abbastanza bene devo dire Attutiscono abbastanza dal suono attorno, suono stereo Si sentono bene e soprattutto quando arriva una chiamata vi dicono chi è Quindi non c'è bisogno di trarre fuori il telefono dalla tasca Insomma, interessanti Questo caricabatterie a 4 uscite da macchina è comodissimo Perché? Guardate Siamo in viaggio, stiamo tornando alla montagna Eccolo qua, iCleaver con 4 uscite addirittura da 2.4 Ampere Quindi carica veloce di 4 dispositivi Io ho un iPhone, tra l'altro vedete è attaccato al supportino magnetico Poi abbiamo qua un iPad per far vedere i cartoni animati E un altro telefono E tutti stanno caricando, c'è ancora una porta libera Nel mio viaggio a Livigno ho usato questo cavo per iPhone Non è lunghissimo, circa un metro Ma è indistruttibile Gabri, prova a romperlo Beh, rimaniamo in ambito nerdate Nerdate o vaccate Cos'è questo? Vediamo chi indovina Beh, non l'aveva indovinato nessuno perché è un campanello Si, è proprio un campanello, guardate E suona come quelli della nonna Da cosa è composto? State lì, ve lo faccio vedere subito Questo va messo in una presa elettrica Si illumina di azzurro quando qualcuno schiaccia questo pulsante Che va messo fuori, all'ingresso Pensate di... andate in campeggio Ecco, ce l'ho, ce l'ho Voi andate in campeggio Vi chiudete nella vostra tenda Fate le cosacce, non fatele perché in campeggio si sente tutto Voi pensate di essere chiusi nella vostra tenda In realtà poi si forma un capanello di persone fuori Ma quando qualcuno vorrà suonarvi la tenda Voi mettete questo dentro, questo fuori E ding dong Perché non suona? Perché non è collegata la corrente In campeggio non funziona Ho detto una baccata Questa invece l'ho comprata per l'armadio Di notte io arrivo a letto sempre tardi Più tardi di tutti Non voglio mai svegliare nessuno E allora metterò questo nell'armadio Si accende con un tap Si spegne con un altro tap Ma la cosa più bella è che tenendo premuto Si dimmera Vedete? Possibilità di aumentare o diminuire la luminosità Semplicemente tenendo premuto E con un tap si spegne Funziona con tre pile normali AA Che non sono intuse nella confezione Neanche qua sono incluse le pile nella confezione Un'altra cosa che ho preso Praticamente per capire se era meglio questo o questo Ovviamente l'ho toccato e si è acceso Devo dire che è meglio quello tondo Perché questo prima di tutto Per accendere è più scomodo Perché bisogna andare a beccare questi due Elettrodi Perché è una cosa capacitiva Se entri le nostre dita E anche qua la luminosità non è altissima Guardate è un po' floschetta Però può essere regolato Vedete qua a destra a sinistra Per illuminare un armadio Magari potrebbe andare bene anche questo Genialata del secolo Cos'è questo? Non è un semplice adattatore bluetooth Per collegare allo stereo Una qualsiasi sorgente che è già bluetooth Ma può diventare una trasmittente bluetooth Avete presente i nostri genitori Forse anche i nostri nonni Che andavano in giro con la radiolina Per ascoltare le partite la domenica Adesso le partite sono spammate tutta la settimana Bene Questo potrebbe trasformare anche quella radiolina In un apparato che trasmette via bluetooth Magari per collegarci le vostre cuffiette bluetooth Magari per collegare anche un altoparlante bluetooth Che volete sentire in un'altra stanza Insomma questo rende smart e bluetooth Qualsiasi apparato Semplicemente collegandolo con la spinetta analogica Questa è una cuffia Che è una cuffia È un altoparlante comprato per mio figlio Che adora ascoltare la musica in camera sua Solo che gliela voglio comandare Anch'io quando sono dal soggiorno L'ho acceso Si accende semplicemente qua Può funzionare anche da bluetooth Viva voce Quindi ha il microfono Funziona bene Mi serviva un apparato di questo tipo Ok Sto andato nelle foto Sono un po' stordito Andiamo nella musica E bubblè Devo dire che suona abbastanza bene Abbastanza bene Forte Potente Possibilità di regolare il volume O ovviamente Dallo smartphone Abbassando o alzando Oppure qua sotto ci sono dei comandi Per play pausa Avanti Indietro Oppure alzare e abbassare il volume Allora Io sono un architetto Sì ormai Sto quasi facendo più il blogger Lo youtuber dell'architetto I clienti quando mi dicono Ma tu sei Andrea Galeazzi No ma dai Non puoi fare bene l'architetto In realtà non è vero Qualche lavoretto ce l'ho E sono molto fiero di essere architetto E allora Questo è un misuratore di umidità Io lo uso per misurare i massetti Allora quando fanno un pavimento nuovo Ovviamente sotto c'è un massetto Ovvero una parte di cemento Chiamalo così Sabbia e cemento Ormai ci sono tantissime cose chimiche Non si usano più le cose di una volta Per farle asciugare prima Eccetera eccetera Non sto qua ad entrare nel tecnicismo Ma questo Non va Vuoi vedere che la pila cinese Ci ha abbandonato? Allora in confezione troverete questa pila Durerà niente Comprate Questa pila Non voglio fare pubblicità alla Durace Ma comprate qualsiasi altro tipo di pila E infilatela dentro Vedrete che tornerà a funzionare Perfettamente Ok Richiudiamo tutto Ho perso lo scatolino Tutto live Tutto Infilzare con queste due punte Qualsiasi materiale Per sapere l'umidità Per esempio vedete Il cartone ha lo 0% E io ho circa il 20% di umidità Comodo 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 Per sapere quando posare Per esempio I pavimenti Sempre per quanto riguarda la macchina Due supporti magnetici Uno lo possiamo vedere in macchina Anzi no Forse l'abbiamo già visto prima Funziona veramente molto bene L'altro Ha un attacco regolabile Per le bocchette Sapete che ci sono quelle che hanno Le feritoie un po' più sottili E quelle che c'erano un po' più grosse Così si apre e si chiude Qua la morsa Molto potente Poi si può regolare E ci sono però queste due placchette Due placchette dove vanno messe Vanno messe in una cover Quindi per forza Dovrete avere un telefono con una cover Magari questa cover Placchetta dietro Tac Veramente Non si stacca Nemmeno nelle curve di Livigno Fatte la Golf R Incredibile Tra l'altro Nell'altro supporto Quello che ho fatto vedere prima C'è compresa in confezione Anche questo magneto tondo Che è adesivo Quindi se volete attaccarlo A un'altra cover Magari fuori E non tra cover e telefono Perché è come funzionano Quelle placchette magnetiche Vanno messe così Tra cover e telefono Tra l'altro L'ho tenuto due settimane E non ha rovinato L'alluminio del mio Del mio iPhone Ci sono altri due Gaggettini Che ho qua sotto Il mio naso Il primo È questo Una pila Una torcia Comoda perché Ha l'accensione qua L'accensione qua Funziona con tre stilo A A A A Ma la cosa più interessante È questa Guardate È magnetica Io ho il tavolo di ferro Si attacca benissimo Quindi tutti Notoriamente abbiamo a casa Un tavolo di ferro Lo potremmo utilizzare Per attaccarlo un po' Dove vogliamo Ma veniamo Al gadget Dei gadget Il quadricottero Il quadricottero Non lo chiamo drone Perché mi hanno tagliato Tagliato Tirato le orecchie Per averlo chiamato Chiamato drone Guardatelo qua Allora Questo Costa poco Ed è praticamente Indistruttibile Con questo mi sono allenato Per far volare Il Parrot Bebop E ve lo consiglio A tutti Se volete imparare A usare Un drone Perché? Perché è difficilissimo Da guidare Non è Semplice Come i droni grandi Perché è piccolo È influenzato Da tantissimi fattori Noi lo appoggiamo lì Così Lui inizia a lampeggiare Anzi facciamo qua Poi accendiamo Il telecomando E guardate Divertentissimo L'ho perso L'ho perso No no L'ho perso L'ho perso Ragazzi Avete capito Che per imparare A guidare un drone Quello è fondamentale Per non buttare via 1000 euro Insomma Io mi sono diventato Un casino Spero anche voi Ciao Ah no Un'ultima cosa Importantissima Ringrazio iClever Per avermi mandato Tutto questo ben di dio E visto che me l'hanno mandato Con un gran bel buono gratis Io prendo tutto Metto nello scatolone E lo porto Alla colazione Ci accapiglieremo Per Per dare questi gadget A tutti voi Ciao Bananana BANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN No, 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 no.